Ciao a tutti ragazzi, oggi l'argomento di questo video sarà sul free app gratis su S4Lig In che senso free app? Cioè accessori di app gratis Vi dico già che per avere questi accessori bisogna fare un nuovo account su S4Lig e che non saranno permanenti ma bensì per 30 giorni Vediamo subito come fare Cliccate sul link in descrizione e vi aprirà questa pagina Dovremmo fare come una normale registrazione come nella pagina ufficiale di Alataya Ora vediamo insieme come farlo Mettiamo il nostro nome di login Io metterò Microenergy La nostra password Il nostro nickname E' un'email valida che non si è registrato pure sul sito di Alataya Quindi un nuovo email La nostra data di nascita Il sesso che noi siamo Quindi maschio Io lo sono E il paese dove noi viviamo Quindi Italia Accettiamo queste tre condizioni E facciamo create account Ci sarà vero scritto account creation Ecco a noi ora qua ci ha detto che ci hanno inviato un email Andiamo a vedere Andiamo a vedere Ecco a voi Ecco a voi E Qua è venuto l'email Se la clicchiamo noi Ora possiamo vedere Che è venuta una schermata semplice di Alataya Ora facciamo cliccare Tu verificai Tu verifai Tu verifai Tu verifai Tu verifai Tu verifai Tu verifai Qua dobbiamo mettere Il nostro login E la password Per confermare La nostra registrazione Quindi noi avevamo messo Micro Ops Pubblicità Micro Energy La password Ecco a voi L'account è stato confermato Ora dobbiamo solo creare il nostro pg Quindi io il video lo fermo qua E noi ci vedremo alla schermata di login di S4 League A capo a voi ragazzi Ora siamo sulla schermata di login di S4 League E ora facciamo il nostro login Scusate Scusate Ehm Ehm Preferibilmente Preferibilmente giurgo in maschio Qua ci sono i vestiti che possiamo non scegliere Oppure se clicchiamo questa freccetta Questo simboletto Ci metterà un po' vestiti a random Quindi ci metterà un po' vestiti a caso Questo si vede bene Ok possiamo scegliere il nostro nome Qua ci daranno i nostri Ehm Come si chiama Le nostre arm basi E i nostri vestiti E qua ci farà fare un breve tutorial Che se volete lo faccio insieme Sapete cosa ragazzi Ehm Non lo facciamo E' meglio di no Se no poi il video viene troppo lungo Diventa troppo numeroso E poi andiamo fuori luogo Bene E Oggi Quindi noi Oggi Se vediamo la Ehm Oggi abbiamo fatto il nostro Bello login Abbiamo creato il nostro personaggio Che succederà Come vedrete Qua non ci sarà niente Di Ehm Come dire Di shop E quindi Che direte voi Oh mio dio ma che cazzo dici Sono bugiardo di merda No invece Gli oggetti verranno domani Quindi per confermarlo Domani Continuerò il video E Vedrete che Verranno Ehm Gli oggetti Quindi Ciao a tutti Il video è from qua Ci vediamo domani Cioè Voi lo vedrete tra pochi minuti Ecco voi ragazzi Ora siamo nel giorno dopo Sono già entrato nel mio PG E Ora entriamo nel nostro server Cioè Scegliamo il server italiano Ora se andiamo a vedere all'inventario Vedremo che c'è una Una Shooting Star Spark Rifle per 29 giorni 4 spec Una bella Flying per 10 ore Una Peppy Cat per 29 giorni Più 6 SP E un DJ set Più 3 e per 30 giorni che dobbiamo ancora aprire Ora se andiamo a vedere nel personaggio femmina c'è anche su quello un set Il Luke Away set Mentre su questo è DJ set Quindi Ehm Il video si conclude qua Se avete qualche problema lasciate pure un commento Mettete mi piace se vi è piaciuto il video E Iscrivetevi per vedere altri video E per Vedere nuovi hack Eccetera Ciao a tutti dal vostro dynamic Alla prossima